Cari fratelli e sorelle, oggi desidero parlarvi di qualcosa che rattrista molto il mio cuore, la guerra in Siria, oramai entrata nel suo quinto anno. È una situazione di indicibile sofferenza di cui è vittima il popolo siriano, costretto a sopravvivere sotto le bombe o a trovare vie di fuga verso altri paesi o zone della Siria meno dilaniate dalla guerra. Lasciare le loro casse, tutto. Penso anche alle comunità cristiane, a cui va tutto il mio sostegno a causa delle discriminazioni che devono sopportare. Ecco, desidero rivolgermi a tutti i fedeli e a coloro i quali sono impegnati con Caritas nella costruzione di una società più giusta. Mentre il popolo soffre, incredibili quantità di denaro vengono spesse per fornire le armi ai combattenti. E alcuni dei paesi fornitori di queste armi sono anche fra quelli che parlano di pace. Come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce? Incoraggio tutti, adulti e giovani, a vivere con entusiasmo quest'anno della misericordia per vincere l'indifferenza e proclamare con forza che la pace in Siria è possibile. La pace in Siria è possibile.